Dovete sapere, queste sono simpatici, sono mamma e figlio che cucinano proprio da far venire gli infarti. Una prima a Kit potrebbe dire, guarda fatti pollo, ma no, 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 no. Questa la mamma piglia i mecche e incisse che già di suo, che se vengono bene, non sono questo granghe, ma loro le prendono nel barattolo del vomito. Prendono questa pasta misto vomito e pannolino, il cane guarda e dice, ma tu che stai facendo? Ma neanche io lo mangerei, e sopra ci ha messo le sottilette. Poi il figlio dice, mamma è troppo buona, la mamma giustamente dice, ma che stai scherzando? Prendiamo questa carne cotta, la carne cotta piena di, insomma quella è gelatina di fogna, quella là che sta sopra, e facciamo uno sformato, un po' pettone di carne cotta, che almeno sei secoli fa c'era ancora, infatti dice Leonardo da Vinci andava matto per questa cosa. La mamma dice, allora tu che stai facendo? Si chiama Josh, mi sembra, il figlio. No, mamma mia Josh che stai facendo? Ma mamma non ti disereda quando fai queste cose? Cioè l'ananas è vero che non si mette sulla pizza, ma neanche, mamma mia, su questi popettoni, la mamma arriva e dice, figlio mio, ma che stai facendo? Sei proprio figlio a me, ma quando sei bravo, ma che devi fare con questo pollo? Buttalo via, fai un'altra teglia, ci mettiamo un po' di polvere di truciolate, che papà fa il falegname, si chiama geppetto. Ecco, ci mettiamo sopra sempre i nostri elastici fritti al sapore di formaggio, la mamma si arrabbia perché i figli invece di dare una mano, insomma, si mette a fare queste cose e poi giustamente, siccome la pancia sarà bene di sicuro, ci mettiamo una marea di fagioli così l'indessino proprio si ripulisce meglio di un clisterio. Ecco, la mamma poi a questo punto ha fatto sei teglie che andranno a finire chissà dove tutti quanti, la mamma ha un cassonetto proprio fuori da casa sua perché, cioè, il marshmallow, cosa ha messo? Il marshmallow, un'altra teglia, ma che c'è, un forno, ma che non li cuoci? Ah, così? Ma non ti incazzare con tuo figlio, quello non ti dà una mano perché non si vuole sporcare, cioè, quello non vuole andare in galera, quello ha la fedina penale sporca qua se ti dà una mano, è inutile che ti arrabbi, eh, eh, vedi, lui sta riprendendo quelle cose perché ha detto mamma così, mamma è buona, deve andare in galera, vedi, ti riprende di nascosto, questo poi manda tutto alla polizia pastale che quello viene e ti mette, ti mette, ti mette...